Barbarà, stiamo arrivando! Arte per te! Abbiamo lo stesso mezzo di locomozione! Sì, ma tu ce l'hai da prima! E vabbè Tito, concetti spazio-temporali per noi creativi del tutto superabili. A molti abbiamo idee simili! E allora Barbara, che aspetti? Ti invito ad una sfida creativa! Scegli tu l'arma e il luogo! Sì, ma sappi che con le matite siamo i più forti! Noi ci saremo! E se mi aiuterai a far arrivare questo messaggio a Barbara condividendo il video, potrai esserci anche tu! Perché tra tutti coloro che condivideranno questo video sorteggerò alla fine! Se Barbara risponderà alla sfida, un fortunato che mi farà da assistente! E potresti essere proprio tu, ad essere parte attiva di Arte per te! Barbara, Arte per te ti aspetta! Sarà una sfida bellissima perché da una sfida creativa potranno uscire solamente due vincenti! E una sicuro, la creatività! Non vorrei mica tirarti indietro! Sarà divertentissimo! Ti aspettiamo, ciao! Grazie! Grazie!